Ed eccoci di nuovo qui su Fumetterino Nero, oggi voglio parlare dei nuovi annunci fatti da Coconino Press in occasione di una live su Instagram del 19 luglio 2023. Primo annuncio che mi ha fatto letteralmente impazzire, mi ha fatto squagliare, mi ha riempito di gioia e si tratta di Polvere di stelle di Sansuke Yamada. Eccolo qua, opera già conosciuta in Francia per... pubblicato forse da Casterman se non erro. Si intitola in francese Sengo, invece hanno scelto un bellissimo titolo Polvere di stelle per l'edizione italiana. Sette volumi, costo al massimo dovrebbe essere di 9 euro, cadenza bimestrale, ma il primo numero uscirà a Lucca Comics and Games. È un'opera già conclusa che ha avuto un enorme successo di critica in Giappone, in Francia, insomma da tante parti nel mondo ed è una di quelle opere che apparteneva al listone di quelle opere che vorrei assolutamente poter leggere in italiano. Listone che potete trovare sul forum di MangaDB. Pubblicato da Enterbrain in Giappone su quella rivista che io vi cito tantissime volte, cioè Comic Beam, una rivista che ormai è veramente un punto di riferimento da tanti anni a questa parte. Si tratta certamente di un seinen, di uno slice of life con ambientazione storica e senza leggervi qui la trama che potete tranquillamente recuperarvela da soli, è un'opera che volevo in tutti i modi poter leggere. Quest'opera ha inoltre vinto anche l'Osamu Tezuka Cultural Prize qualche annetto fa, mi pare 4-5 anni fa, ed era in quella sezione dedicata agli esordienti, insomma ai giovani autori, qualcosa del genere. Sansuke Yamada ha avuto come assistente anche Kawakatsu Tokushige, autore di cui vi ho già parlato in un video sempre su questo canale e di cui vi riparlerò nuovamente in quest'estate, sicuramente perché ho già girato il video, devo solamente pubblicarlo. Io veramente non vedevo l'ora di poter leggere quest'opera ed è l'annuncio che sicuramente mi ha più colpito, mi ha più riempito di gioia e sicuramente sarà qualcosa che comprerò. Non vedo l'ora. Inoltre sapete bene che ogni volta che compro, che mi arriva, un nuovo numero di Atom, la Culture Manga, la rivista francese a proprio tema manga, vi parlo sempre del suo contenuto e è anche, diciamo, materiale per me di approfondimento. E il tredicesimo numero, se non erro, contiene anche un'intervista da Sansuke Yamada, che tra l'altro cita in quell'intervista a Kawakatsu Tokushige elogiandolo. E purtroppo quel volume non ce l'ho. È uno dei pochissimi numeri che mi mancano di Atom la Culture Manga e quindi purtroppo non posso attingere per avere delle informazioni ulteriori su quest'autore. Autore, fra l'altro, conosciuto in Giappone anche per opere bara e che invece adesso, insomma, si è aperto ad un mercato un po' più generalista, potremmo dire così. Bene, sono felicissimo di questa scelta. Poi andiamo avanti e l'altra opera annunciata è Amane Gymnasium di Usamaru Furuya. Anche in questo caso sette volumi, opera già conclusa. Anche in questo caso il primo numero uscirà a Luca Comics. È cadenza bimestrale, esattamente come Polvere di Stelle. e si atternerà proprio con l'opera di Sansuke Yamada. E cosa vi posso dire? I curatori editoriali di Coconino, Livio e Paolo, hanno sempre raccontato anche che loro apprezzano particolarmente il Furuya giovanile. Quindi quello di Paleppoli, quello della musica di Marie, eccetera. E man mano che si va avanti, insomma, ci sono invece delle opere che possono anche essere considerate decisamente più scadenti. Ed è esattamente quello che penso anche io. Io ho praticamente tutte le opere di Usamaru Furuya però un discorso è provare piacere in una lettura un altro è invece proprio adorarla, appassionarsi e considerare quell'opera una delle tue preferite come effettivamente è avvenuto con Paleppoli e la musica di Marie e come non è mai accaduto con le altre opere. Ecco, Amane Gymnasium è recente come opera 2017-2020, vuol dire veramente che siamo... è un'opera molto tarda rispetto alle altre che ha pubblicato Coconino di questo autore ed è un'opera che io approccerò sicuramente perché comunque io le opere di Usamaru Furuya le compro ma con un certo timore. Spero di poter rivivere con altrettanta forza le emozioni che ha provato con altre opere pubblicate di quest'attore da parte di Coconino. Per come l'hanno presentata Livio e Paolo è effettivamente un'opera che forse si distacca da quelle più recenti di Usamaru Furuya e quindi io, diciamo, anche se ci andrò a col piede di piombo spero, ho una speranza nel potermi imbattere in un Usamaru Furuya recente ma per me estremamente convincente. Ecco, di nuovo il prezzo dovrebbe essere al massimo di 9€ e sono comunque molto molto interessato sicuramente la comprerò. L'ultima opera che hanno annunciato di questo trittico è Meiwai 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 non lo so di Minetaro Mochizuki 10 volumi ancora una volta serie conclusa ancora una volta il primo numero che uscirà a novembre 2023 in occasione di Lucca e invece quest'opera sarà mensile quindi ogni mese ci troveremo un volume di quest'opera di Minetaro Mochizuki e un volume o di Polverdi Stelle o di Gymnasium di Usumaru Furuya ecco, le serie composte da 10 volumi e non da 11 come pubblicato in altre zone perché l'undicesimo volume è veramente formato da poche pagine e quindi lo accorperanno al decimo fra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che l'opera di Usumaru Furuya stranamente non solo non era mai stata pubblicata in Italia visto che comunque vari editori si tentano sempre di prendere i diritti delle opere di Usumaru Furuya ma anche all'estero, proprio negli altri paesi europei non c'è ancora traccia di questo amane gymnasium mentre Meiwai è un'opera sempre di un po' di tempo fa del 2002-2008 come possiamo leggere qui Young Magazine una rivista che non è estremamente in linea con i miei gusti ma comunque di solito io un conto è lo Young Magazine di 20 anni fa un conto è lo Young Magazine di adesso e non ho il polso della situazione per capire quanto si allinea con me lo Young Magazine di 20 anni fa però ho il polso della situazione su chi è per me Minenetaro Mojizuki ed è un autore bravissimo forse mi manca quell'opera di Minenetaro Mojizuki che effettivamente faccia breccia definitiva nel mio cuore e che sia anche una delle mie opere preferite di sempre però io ho estremamente adorato anche le sue opere le sue opere horror come ad esempio Phantom Stalker Woman che so che ha fatto molto di scooter che divide abbastanza le opinioni io lo trovo splendido mi è piaciuto tantissimo anche Tokyo Kaido mi è piaciuto tantissimo Chisa Kobe altra opera che divide abbastanza le opinioni mi è piaciuto forse un po' meno Dragon Head che invece forse è la sua serie più popolare almeno in Italia forse è stata così anche perché è stata forse la prima ad essere stata pubblicata da una grande casa editrice la prima serie pubblicata da una grande casa editrice Phantom Stalker Woman invece è un piccolo volumetto pubblicato da Star Comics è ripubblicato fra l'altro recentemente nell'edizione Umami e inoltre direi che non mi sono perso niente ah poi c'è L'Isola Decani che è l'adattamento manga del film di Wes Anderson che è stato pubblicato da D-Nit Manga allora cosa vi posso dire anche questo volume io lo comprerò sicuramente al 100% questa serie sarà mia ho amato quindi Minetaro Mochizuki forse non alla follia come vi ho già detto e chissà magari questo titolo mi convincerà più di altri graficamente non penso che possa essere allo stesso livello di minimalismo di asciugatura che c'è anche in Chisakobe che si può trovare nelle sue opere molto recenti il suo stile è cambiato tantissimo in Dragonhead c'era uno stile veramente molto molto cupo stessa cosa per Phantom Stalker Woman mentre adesso è tutto molto chiaro ci sono delle linee che disegnano i contorni e poi ci sono all'interno di queste linee bianchi praticamente dei bianchi assoluti e quindi si è evoluto tantissimo nel tempo ecco questo temporalmente come opera dovrebbe porsi in mezzo a queste due anime di Minetaro Mochizuki e quindi sono molto curioso di poter capire quanto mi convincerà ecco non vedo l'ora di poterlo leggere non vedo l'ora ecco e queste tre opere cioè Mai Wai di Minetaro Mochizuki Amane Gymnasium di Usomaru Furuya e Polver di Stelle di Sansuke Yamada vanno a formare una nuova collana per Coconino una collana ad un prezzo ridotto come avevamo detto massimo dovrebbe essere 9 euro a volume e ha formato anche ridotto 13 per 18 quindi è una enorme novità è un aprire le porte ad un mondo per ora inesplorato da parte di Coconino e secondo me lo stanno facendo in una maniera incredibile incredibile certi prezzi sono un po' attini rispetto ad altri casi editrici che pubblicano opere nel formato Tanko Bon Classico 13 per 18 certamente però è ovvio che il pubblico Coconino è abituato a spendere determinate cifre è ovvio anche che ci sono opere che un pubblico è disposto a pagare una determinata cifra mentre altre no e io penso che la scelta di questo tritico sia stata eccezionale e penso anche che questi annunci sfruttino molto bene due dimenticanze da parte degli altri editori cioè lasciare un'opera come Amane Gymnasium di un autore già ultra conosciuto cioè Usamaru Furuya che ha già un suo pubblico ha un pubblico anche fra l'altro di fedelissimi e lasciare anche nell'altro caso MyWai con Mine Teramo Chizuke che è stato pubblicato da mi pare tre case editrici differenti in Italia però perché quest'opera no? chi lo sa insomma tutti e due questi autori hanno un pubblico veramente sai già che un certo numero di copie le venderai è incredibile che nessuno abbia acquisito questi diritti e Cocconino ha fatto benissimo a acquistarli e a proporli e ha approfittato veramente dei regalini che sono stati lasciati lì per terra e infatti cosa vi voglio aggiungere che mi hanno anche un po' sorpreso perché hanno effettivamente un taglio anche più popolare di quello che io potessi immaginare a priori mi immagino Cocconino deve fare tre annunci per la nuova colonna 13x18 ok mi posso immaginare appunto un polvere di stelle ma non mi immaginavo un Furuya serie lunga un Minetano Monsizuki serie lunga perché sono forse autori già molto affermati molto conosciuti però effettivamente cavolo ci sono sul mercato queste due opere lasciate lì così in sospeso perché non acquistarne di lite e non pubblicarla e non iniziare così con una certa base spero per loro anche molto consolidata già un bel boost per partire con questa nuova collana o sottocollana diciamo così quindi hanno fatto veramente bene però come vi dicevo l'opera che l'annuncio che veramente mi ha scaldato il cuore al 100% è quella di polvere di stelle e sono curiosissimo già lo so calma calma però magari bisognerebbe prima godersi le cose che sono state annunciate che fra l'altro non sono ancora uscite però io già penso oltre e penso a quali altre opere quali altri autori potranno andare a scoprire a tirare fuori e che purtroppo sono stati magari ignorati per tanto tempo autori che hanno avuto anche un discreto successo di critica all'estero e da noi non sono neanche arrivati perché si ha sempre paura di pubblicare determinate opere per un pubblico maturo eccetera eccetera ecco speriamo che Coconino veramente colmi alcuni di quei gap e questo per ora lo stanno facendo in modo egregio sono emozionatissimo per questa loro scelta che crea anche un profondo distacco rispetto ad altre case editrici che si sono affacciate adesso sul mercato manga e che si sono tutte buttate su una tipologia di opere che assolutamente non hanno nulla a che vedere con questo stile qua e parlo vabbè Ishi Publishing che vabbè parlo di Toshokan ma parlo anche di Saldapress che dopo aver pubblicato Sex e Toi in ordine inverso ha preso una strada completamente diversa completamente ed è un vero peccato io spero fortemente che Coconino riesca a imporsi ad affermarsi anche con queste serie un po' più lunghe a un prezzo ridotto sono contentissimo e sicuramente rinuncerò magari ad altre cose per far spazio a questo tipo di opere se pubblicassero che ne so 20 opere di questo filone probabilmente rinuncerei ad altre tante cose per dar spazio a questo genere di opere effettivamente io riconosco che comunque c'è ancora uno stile Coconino ecco anche se siamo scesi a compromessi su determinati cose sul formato sul prezzo eccetera eccetera cosa che forse un po' si è persa invece che ne so con l'altra case editrice che per tantissimi anni è stato il mio punto di riferimento e che e sto parlando cioè di DINIT che ovviamente con showcase ha fatto un determinato un determinato lavoro e che adesso nel formato 15x21 ha diciamo un po' mixato opere che effettivamente sono ancora perfettamente nel mio stile sono perfettamente in linea anche con questi annunci che ha fatto Coconino e altre opere che invece diciamo sono pensate per un pubblico totalmente diverso andiamo sotto e troviamo invece il nuovo annuncio per la collana dedicata a Kamimura e cioè Folli Passioni due volumi concluso e questo secondo me potrebbe piacermi tantissimo perché anche qua abbiamo un legame molto forte con l'arte giapponese con Okusai con un'ambientazione storica e quindi io non vedo l'ora di poterlo leggere hanno raccontato inoltre che rispetto all'edizione tedesca l'edizione francese l'edizione italiana avrà come sempre dei contenuti aggiuntivi in questo caso si parla di anche di due capitoli che nelle edizioni estere non sono state pubblicate e che invece noi vedremo inserite nei volumi con la solita enorme attenzione che insomma che Coconino mette nelle sue opere soprattutto Livio e Paolo 28 euro sì praticamente non so la folliazione di questi due volumi ma sicuramente non mi lascerò sfuggire questo Kamimura e sono molto molto contento hanno raccontato anche altre cose innanzitutto la collana 13x18 credo che non avrà un nome a lei dedicato questo mi fa abbastanza contorcio delle budella ma semplicemente perché io sono un fissato con la possibilità di catalogare mi manca proprio una parola da utilizzare anche quando faccio i video adesso dovrò dire ogni volta esattamente come mi accade con con DINIT dovrò dire la collana docu quella però 13x18 ecco vabbè amene ma queste sono mie fissazioni poi magari non sarà così e avrà un suo nome ma secondo me secondo me no a fine estate probabilmente a settembre faranno un annuncio relativo a Luca Comics non sappiamo che cosa possa essere chissà magari uno può immaginare l'ospitata di un autore visti gli annunci mi verrebbe da pensare che si tratta di Usamaru Furuya mi sembra la cosa più probabile autore che già è arrivato in Italia a Luca Comics forse nel 2015 più o meno una cosa del genere sarebbe sarebbe carino sicuramente io in realtà spero in qualcosa di totalmente fuori dagli schemi un po' pazzo quindi io nonostante pensi che insomma l'autore più probabile sia Usamaru Furuya mi auguro qualcos'altro qualcosa di diverso però mi andrebbe benissimo lo stesso Anora non ti ho raccontato che ai tempi di Bo-Chan si concluderà entro la fine dell'anno se non erro sono cinque volumi totali da questa nuova edizione oggi fra l'altro ho appena acquistato il secondo numero e hanno raccontato che tutti i numeri avranno i redazionali che già ci sono visti nel primo e ogni volta ci saranno interventi da parte di docenti universitari e secondo me è veramente un'edizione fantastica da questo punto di vista poi i fanatici del Gekiga finalmente uscirà ad agosto un volume che ha avuto una gestazione infinita per vari motivi varie problematiche che ci sono state la traduzione sarà ancora affidata a a Vincenzo Filosa nonostante Vincenzo adesso ormai collabori con altri editori più che con Cocconino e sono felicissimo però di questo anche perché si capiva che ovviamente questo progetto era nato da una sua intenzione e da una sua idea e non vedo l'ora non vedo l'ora di leggerlo sono felicissimo finalmente un'opera in Italia di Matsumoto Masaiko ed è di nuovo immaginatevi almeno io l'interpreto così a priori non l'ho ancora letto però insomma da quello che ho letto in giro dai commenti eccetera è una vita tra i margini però raccontato dal punto di vista di Masaiko Masaiko e non di Tatsumi è un'opera che racconta di momenti attimi la nascita del Gekika vissuti tra gli anni 50 e l'inizio degli anni 60 però questa opera è stata scritta nel 79 80 una cosa del genere quindi a distanza di tempo e spesso vi ho detto che più in là si va con gli anni con l'esperienza e più queste opere degli autori Gekika mi piacciono e quindi di Tataotsuge io non amo il lupo dei bassi fondi non amo Trash Market che comunque mi sono piaciuti tanto ma io amo soprattutto la mia vita in barca di Tatsumi io più di tutti amo una vita tra i margini e così via di Abe c'è arrivato il volume Canicola il volume Canicola ospita anche delle storie pubblicate mi pare degli anni 80 sono spettacolari quelle storie secondo me ecco è veramente un qualcosa che si ripete e quindi sono ancora più interessato a leggere i fanatici di Gekika non vedo l'ora finalmente arriva arriva tra noi ovviamente ci saranno pagine in bicromia ci saranno degli extra e soprattutto se compriamo se compreremo i fanatici di Gekika dal sito ci saranno anche delle cartoline in omaggio una cosa del genere qua non lo trovo scritto mi pare esatto quindi da controllare da verificare questa cosa ma insomma potrei lasciarmi andare all'acquisto dal sito che è molto comodo non si pagano le spese di spedizioni ma semplicemente io mi tocca poi rincorrerle queste spedizioni e perdo un sacco di tempo il film Shinano verrà rieditato in un'edizione omnibus in accordo anche con la figlia di Kamimura che voleva appunto un'edizione di questo tipo ovviamente ci sarà chi gioirà di questa cosa chi non ha recuperato il film Shinano e quindi adesso magari potrà farlo io ce l'ho già nell'edizione vecchia non penso che comprerò l'omnibus omnibus che sarà bello bello corposo e fra l'altro ha un prezzo comunque abbastanza accessibile cioè meno della somma dei tre volumi della precedente edizione se non erro avrà gli stessi redazionali forse però avrà tre o quattro frontespizzi in più ma questa cosa è ancora un po' da da verificare non è certa Garden invece di Usumano Furuya era già stato un po' spoilerato mezzo annunciato ecco questa invece è un'opera di molto tempo fa di Usumano Furuya assolutamente mi interessa non vedo l'ora di leggerla uscirà ad ottobre e di nuovo una raccolta di storie brevi con l'anadoku certamente però nel formato 15x21 quello di la musica di Marie e quello anche di Palepoli e anche in questo caso ecco se a Gymnasium mi avvicino un po' con i piedi di piombo ma lo comprerò comunque lo stesso su Garden invece vado veramente dritto dritto alla meta sono convintissimo insomma io gioisco gioisco per questo nuovo approccio di Coconino gioisco per questa nuova possibilità per noi lettori gioisco perché magari rinuncerò a comprare delle opere che si magari sono intrattenenti magari mi piacciono ma che sono un 6 un 6 e mezzo un 7 per comprare queste opere che invece potenzialmente sono molto più in linea con me e quindi chissà magari troverò tra queste sapete quelle opere che come dico spesso sono veramente essenziali per mandare avanti questa questa passione no quelle opere che ti fanno bruciare di passione e ti fanno di nuovo capire il perché il perché stai spendendo tutti questi soldi il perché stai perdendo tutto questo tempo su questo canale e su questo podcast eccetera 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 quindi spero spero e penso che sia molto più probabile trovarlo qui che su altre pubblicazioni di altri editori quindi sono felicissimo fatemi sapere voi cosa ne pensate qual è l'annuncio che più vi aggrada la storia che più vi inclusisce io come vi ho detto non vedo l'ora di leggere polvere di stelle fra tutti a presto sempre qui su Fumetteri Non Air Fumetteri Non Air